Bene, salve a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta sul canale di Mr.Critico87, alias Francesco Barni. Quest'oggi torniamo con un video acquisti, diciamo l'ultimo video acquisti del mese di aprile, che racchiude, diciamo così, le ultime due settimane, settimana e mezzo insomma di aprile, tolti questi ultimi 4-5 giorni in cui credo uscirà gran poco, ma iniziamo subito perché sono abbastanza corposetti. Vi dico comunque che il prossimo video in questione, so che ne ho 2-3 indietro, sarà un video totalmente slegato dai miei fumetti, riguarderà le classiche passeggiate che facciamo in compagnia del mio cane, e invece subito dopo avremo la video collezione DVD e Blu-ray insieme, visto che me l'avete chiesta almeno in 2-3, non sono un'ipocita, non dico che me l'hanno chiesta in tanti, perché non è vero, me l'hanno chiesta in 2-3, però ci tengo a quasi tutti i miei iscritti, quindi le richieste che mi vengono fatte, anche se fossero singolarmente, ci sto insomma. Iniziamo con i video acquisti, partiamo dai manga. Allora, c'è un manga che acquisto in edicola per il semplice fatto che il mio edicolato di fiducia mi fa uno sconto particolare, uno sconto particolare, costerebbe 4,50, a me lo fa pagare 3,80, per il semplice fatto che un errore suo ne ha ordinati di più di quelli che gli servono, e quindi piuttosto che gli rimangono sul gruppone, avanti. Sto parlando di Neorganesis Evangelion, di cui ho preso il primo volume, adesso prendo il secondo. Questa ristampa, insomma, ecco, per chi non l'ha mai avuto, è un piccolo cult, diciamo così, da avere. Passiamo dopo ad High School DxD, demoni al lavoro, vi dirò, cioè, ormai si prendono solo perché ci sono dentro grandi tette, niente da dire, però ormai ha fatto il suo corso, spero che non continuino a fare degli speciali, perché mi sembra alquanto ridicolo, la scelta è finita, questo è il secondo speciale che c'è, spero basta. Un altro acquisto fatto così, diciamo, al numero 14, andrà avanti ancora per molto, è divertente, però insomma siamo sempre a livelli molto di shonen, classici, quasi bambinischi, ci sono comunque dentro tette e culi anche qui, quindi, vabbè, ormai è la moda. Dragonhead numero 9, stiamo andando avanti, ripeto, mi riserverò per la fine, per la fine dell'opera, di dirvi qualcosa, perché sapete che finché io non ho finito una serie, non riesco ad avere un'opinione completa di quello che vorrei esprimervi, quindi lascio così. Non mi ricordo se questo l'ho già fatto vedere, ma eventualmente lo rifacciamo rivedere, perché qua veramente c'è un casino, il primo numero l'ho recuperato di Kakugo, pronti al combattimento, di Takayuki Yamaguchi, che è lo stesso autore di Shigurui, le spade della vendetta, per chi se lo ricorda qualcosa di classico dell'epoca Sengoku, insomma, sempre a livello di Samurai e Kabukimono vari, invece qui è qualcosa di futuristico, però i disegni sono molto simili, perché è sempre lo stesso autore, è qualcosa di bello, preparatevi a un'opera molto, molto, molto Splatter. Haruhito numero 2, lo sto recuperando adesso con calma, perché dalla mia casella non era stato messo, a me piacciono queste storie un po' shoujo, devo dire, anche se sono più per femmine, però queste storie un po' shoujo, che sono ambientate tante volte dentro alle mura domestiche o comunque all'interno dei posti dove gli adolescenti passano le loro giornate. Numero 11 di Natsume degli Spiriti, anche questo sta andando avanti abbastanza bene, devo dire che mi aspettavo un attimo di più, stiamo perdendo forse di vista il filo conduttore dell'opera. Ecco, qui a differenza di altri, i disegni sono molto minimalisti, insomma, ecco, si tende anche forse un po' a risparmiare. 4,50 sempre l'edizione, vabbè. Il numero 1 di Ultraman, ormai stiamo andando con i supereroi, qui andiamo alla grande, anche nell'ambiente nipponico. Maria the Virgin Witch numero 3, questo è veramente simpatico, cioè, molto serioso, nel senso che comunque c'è, ci sono combattimenti, c'è questa epicità di fondo che traspare per tutta l'opera, però, insomma, bisogna dire che comunque è basato su qualcosa di carino, insomma, di leggero, scusate. Numero 10 dell'usuraio, sopportare, sopportare, tirare la cinghia, tirare la cinghia, guardate, l'usuraio, ormai non ci sono più parole per definirlo, perché è veramente un'opera fantastica. ringraziamo il buon Shoei Manabe, veramente, veramente qualcosa di particolare che tutti dovrebbero leggere, anche per capire il punto di vista, non tanto dell'usuraio, ma della vittima vera e propria. Poi, passiamo a quest'altra, diciamo così, montagnetta sempre di manga. Abbiamo il numero 19 di Rainbow, come direbbero i romani, che ve lo dico a fare. Ormai Rainbow è diventato non solo un cult, ma una cosa che tutti, tutti i lettori di fumetti dovrebbero avere nella propria collezione. Non sto parlando di mangaloidi, non sto parlando di bimbi minchia, sto parlando di persone che capiscono il valore di certi manga. Rainbow è veramente qualcosa di bello e coinvolgente. Vi assicuro che c'è gente che conosco che se lo legge ancora appena è venuto fuori dalla fumetteria. Io sono un po' più pantofolaio, però molta gente fa così. Bello, bello, prende. IQ, guardate, non gli fa neanche le scarpe a Takeryu, cioè a Mile Shiro, però, insomma, sembra un po' la versione bambinesca del Principe del Tennis, però, insomma, diamogli ancora qualche possibilità. Il numero 1 è uscito l'altro giorno in questa cover sbrillucicosa della Perfect Edition del Dr. Slump di Akira Toriyama. Sì, perché il titolo non è messo adotto slamperale, quello era il titolo dell'anime. Perché costa 7 euro e si chiama Perfect Edition? Prima perché racchiude più numeri della serie normale e classica. Poi perché abbiamo qualche pagina colorata, diciamo così, poi il resto è come al solito. Devo dire che i disegni sono comunque fantastici. E guardate, io lo consiglio a tutti i fan di Akira Toriyama, perché se una persona ha letto Dragon Ball, queste sono le origini. Queste sono le origini ed è ancora meglio, forse, come spassosità. Ecco qui, invece, una puttanata che è arrivata. I Cavalieri dello Zodiaco, Saintea Sho. Ora, per chi conosce e che ha già visto i miei video, io sa che sono un amante dei Cavalieri dello Zodiaco, di Saint Seiya, di Masami Kurumada. Però, le uniche serie che ho preso sono quelle legate all'edizione originale, che tra l'altro è sull'Inviola, se non so se si vede, la prima della Shot, insomma, della Star Comics. E poi non ho preso tutte quelle serie Lost Can, Vals, Episodio G, tutte quelle boiate lì, non le ho prese. Ho preso, invece, la Next Dimension, perché ha fatto Akira Romada. Qua, invece, devo dire che, anche se il manga è di Chimaki, di Chimaki Cuori, ovviamente l'idea originale di Usami Kurumada, mi intrigava, insomma, la versione femminile di Saint Seiya, infatti, le Sacre Guerriere di Atena. Un modo per fare soldi, però, insomma, dai 4 e 20, 4 e 20, quindi ancora di meno degli altri. Un altro primo numero è il Filo Rosso di Kaomiyasaka. Vedremo anche questo molto shoujo, secondo me. E un altro numero uno è la Fortezza dell'Apocalisse. Mi aspetto non grandissime cose, però una buona cosa, direi. Questi sono tutti in edizione 4 e 20, infatti, la Planet Shoujo e Planet Manga. Addirittura, vedete, le hanno divise. Planet Shoujo e Planet Manga, come dire per tutti, Planet Shoujo sarebbe solo per le gamine. Il numero 7 di Zebra, si è anche rovinata la sovra copertina, guardate qua. Finalmente vedremo una vendetta compiersi, non vi dico quale. Comunque, insomma, parecchia carne al fuoco in questo numero. Il numero 2 di Dog and Scissors, giù le forbici, qui devono darmi di più, veramente. Il primo numero mi ha lasciato veramente perplesso. L'unica cosa fino ad adesso carina e intrigante è sto cagnolino che aleggia in tutto il manga, insomma, sempre vicino al protagonista. Il numero 3 di un'altra opera colossale, non solo per quanto sia bella, ma anche per la grandezza. Violence Jack di Gonagai, guardate, allora, 7,50€ l'uno. Questo è il terzo volume e siamo arrivati al terzo e dobbiamo arrivare al diciottesimo. Guardate che Gonagai, che tuttora penso sia in produzione di vari manga, guardate la semplicità dei disegni ma allo stesso tempo la caratterizzazione. Un mito, veramente un mito. Quindi Violence Jack anche consigliato a tutti. Però magari più leggetevi qualcos'altro di Gonagai per saperne di più. Adesso passiamo al reparto comics, vediamo se a scoparci sta tutto. Passiamo al reparto comics, se no durano troppi video. E partiamo dall'annuario del fumetto 2015. Questa è un'edizione grossa di Fumo di China, per chi conosce la rivista, in cui al suo interno abbiamo tantissime rubriche che ci parlano delle icone pop e di alcuni fumetti che sono tutti fuori durante quest'anno 2015, quindi fino adesso, diciamo così, e anche qualcosa del 2014. Ci danno informazioni, articoli, interviste, approfondimenti. È una cosa da avere per chi vuole farsi un'idea generale sul mondo del fumetto. Abbiamo poi qui all'interno le pagine gialle di tutte le fumetterie d'Italia, o comunque le più importanti, diciamo così, con i loro contatti divisi ragione per ragione. Quindi qualcosa secondo me di carino, perché ti aiuta anche a contattare certe persone, magari confronti i prezzi e fai. Anche se devo dire che come vengo trattato e come fanno i prezzi alla Libroteca di Trento, devo dire che faccio fatica a trovare delle altre persone così. Sappiate anche, so che sembra una sviolinata, perché come dire lui va a prendere i fumetti, eccetera, però sappiate che loro fanno spedizioni in tutta Italia e anche fuori dall'Italia, insomma, sempre con molta celerità, molta velocità e i prezzi sono abbordabilissimi. Passiamo ai comics, abbiamo tanta carne al fuoco, di Kieran Gillen, Huber, Karen White, l'arrivo dei super soldati nazisti. Qui, diciamo così, è una rivisitazione della Seconda Guerra Mondiale, in cui, mentre l'esercito russo sta per entrare a Berlino, nascono questi combattenti geneticamente modificati tedeschi, che, diciamo così, insieme, messi insieme, riescono a resistere, a fare la differenza. Poi vediamo che, a dire la verità, la Seconda Guerra Mondiale non cambierà, però sono tutte delle storie un po' parallele. Guardate le loro battaglie, numero uno, da avere per tutti i fan, insomma, del Fanta Horror storico, lo chiamerei così. Andiamo avanti, andiamo avanti con una chicca fantastica per tutti i repubblicani in ascolto, per tutti i filoamericani in ascolto, per tutti anche i fan di Capitano America, insomma, per tutti, un po' i conservatori di un tempo. The Nam, Lettere dal fronte, è una storia fumettata, autobiografica, del soldato, il giovane soldato Ed Marks, in catapultato in Vietnam. Ovviamente, con un'introduzione, insomma, per spiegare di cosa si tratta, disegni, ambientazioni e modo di scrivere, di disegnare, è molto filoamericano. Basti pensare alla prima vignetta che troviamo qua, in cui la mamma dice al ragazzo che sta partendo per il fronte, ciao ragazzo, ricordati di scrivere e ti prego, sii prudente. Esatto, figlio mio, sii prudente. E non dimenticare la dramamina. La dramamina è quella medicina per il mal d'auto, mal di macchina, mal d'aria, mal di mare, che viene preso, insomma, che dà secchezza delle foci. Qualcosa di bello. Il costo 24 euro, però lo consiglio veramente. E invece, scusate, non l'ho detto prima, Uber costa 15, insomma, comunque sono acquisti un po' importanti. Siamo arrivati al numero 14 di Wack e, guardate, speriamo che non finisca mai questa serie, anche sappiamo che finirà perché le conosciamo quasi tutte ormai le storie di Zio Paperone e dei Paperi, disegnati da Karl Barks. Guardate qua, l'olio dipinto da Karl Barks, Cave of Alibaba, olio su tela. E al suo interno, guardate che abbiamo anche una versione, ve la faccio vedere, guardate qua, una versione di Amelia, diciamo così, Magica Despel, disegnata qua. Per chi non lo sapesse, Amelia è stata disegnata sulle semianze di Sophia Loren. In questo numero, a parte, secondo me, la bellissima storia, Zio Paperone e la Fattucchiera, abbiamo anche Zio Paperone e la Caverna di Alibaba, ma soprattutto abbiamo la storia inedita in Italia, Archimede e Pitagorico, il tappeto volante. Ora, queste piccole storie non è che siano enormi di ampio respiro, sono piccoline, però sono molto molto belle e significative. Passiamo adesso alla Marvel, ve lo dico subito che sono un po' in disordine, quindi continueremo a passare da una parte all'altra. Abbiamo il numero 20 di Guardiati della Galassia, sempre con l'original Sin Tain. È uscito da poco il film di Avengers, mentre sto caricando questo video non sarò ancora andato a vederlo, ma quando verrà caricato, e voi lo vedrete, credo di sì, quindi ci sarà un video anche per quello. Abbiamo il numero 7 dei Fantastici 4, sempre original Sin Tain. Devo dire che un attimino meglio questa testata rispetto a quella prima della Marvel Now, l'All New Marvel Now, qua sta andando bene, forse solo qua. Adesso vedremo. Gli incredibili X-Men, la marcia verso Axis, che sta arrivando sempre di più. numero 20. Abbiamo poi i nuovissimi X-Men numero 23, oltre allo specchio, con Brian Michael Bendis, quindi prepariamoci a qualcosa di bello. Questo non mi ricordo se l'ho già fatto vedere, ma credo di sì, comunque facciamovi vedere un'altra cosa perché ho finito in mezzo alle varie cose. Il primo numero l'ho trovato finalmente del Teenage Mutant Ninja Turtles, Volumozzo della 001 edizioni dei tempi di Eastman Waltz. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Spero pian piano di recuperare gli altri 4, questo costa 12 euro. Beh, non serve che vi dica quanto costano sinceramente gli altri, comunque 3,50 i nuovissimi X-Men, 3,50 gli incredibili X-Men, 2,90 i Fantastici 4 e 2,90 anche i Guardia della Galassia. 5 euro invece, whack. Devo dire che la Mario ci sta pigliando un po' in giro perché aveva detto che tutte le testate sarebbero diminuite un po' di pagine, ma anche diminuite un po' di prezzo. In realtà le pagine forse qualcosina sono diminuite, ma siamo sempre restati sui 3 euro e qualcosa, 2,90 euro, proprio poche poche testate. Numero 29 di The Boys, non finirà mai ed è un bene che non finisca mai perché veramente ci sono sempre più intrighi e cose assurde da vedere, Gartennis non può mai deluderci. Abbiamo il numero 9, numero 10 scusate, di Batgirl. Penso che sia l'unico brossurato, diciamo così special, del Batman Universe che sta andando avanti perché Nightwing è finito, Batman Inch è finito, Batman Inch è finito con lo brossurato e tutto è stato trasferito allo spillato. Questo è Batwoman, ecco sta andando avanti, Cappuccio Rosso e Forelegi è traslato su Giovani Titani, Cappuccio Rosso, quindi Batgirl e Batwoman. Batwoman non la prendo, non mi ha mai entusiasmato granché. Passiamo alla DC momentaneamente, Justice League, ah ecco scusate, Batgirl mi dimentico sempre, 10 euro e 95 l'hanno aumentato di un euro sti bastardi. Justice League numero 17, con questa copertina dedicata al Savage Hawkman, al suo interno Justice League 3000, una serie di cui parleremo molto perché vi dirò, il primo numero ha detto che puttanata, dal secondo in poi ho iniziato un po' ad apprezzarlo, anche se siamo sempre a livelli molto risicati. 3,95. Le nuove avventure di Superman, guardate che gloriosa questa bellissima copertina, è uno degli ultimi numeri, devo dire, perché poi hanno deciso di bloccarla, è un peccato, secondo me è un peccato, perché questa era una delle poche testate di nicchia che mi piacevano, 2,50 euro, questa è l'effettiva numero 16, ha pochissime pagine. Abbiamo...